Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Una serie di violenti fenomeni meteorologici, innescati dal cambiamento climatico, devastano il pianeta Terra, gettando l'emisfero settentrionale in una nuova era glaciale. Questo in sintesi è The Day After Tomorrow, film post-apocalittico del 2004, diretto dal maestro dei disaster movie, Roland Emmerich. In questo video andremo ad esaminare gli aspetti più intriganti di The Day After Tomorrow, parlando anche un po' di sana scienza, con l'obiettivo di capire quanto sia realistico o meno uno scenario del genere. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Partiamo, come dà abitudine, dall'analisi della trama. The Day After Tomorrow ruota attorno al personaggio di Jack Hall, Dennis Quaid. Professore di paleoclimatologia e ricercatore. Durante una spedizione in Antartide, Jack vede con i propri occhi come i ghiacciai del pianeta si stanno sciogliendo a ritmi insostenibili. Jack, partecipando a una convention internazionale dell'ONU a tema clima, avverte i potenti della Terra, sottolineando come lo scioglimento dei ghiacci può innescare un meccanismo che porterà a una nuova era glaciale, in un lasso di tempo nell'ordine dei secoli. Ovviamente non viene ascoltato dai vari leader politici, solo un altro scienziato, il professor Terry Rapson, Ian Holm, ascolta e condivide le parole di Jack. Nel mentre, il figlio di Jack, ossia Sam, Jack Gyllenhaal, altro protagonista del film, si reca a New York insieme ad alcuni compagni di scuola per partecipare a un torneo di cultura generale. Il clima però non attende secoli per andare fuori controllo, visto che in tutto il mondo cominciano a verificarsi fenomeni violenti. In Giappone cade una grandinata con chicchi grandi come palle da baseball, mentre gli Stati Uniti sono colpiti da un uragano dalla Forza Record. Il centro di ricerca del professor Rapson in Scozia comincia a rilevare dati allarmanti. La temperatura dell'Oceano Atlantico sta calando rapidamente. Jack inserisce questi dati nel suo modello di studio delle glaciazioni, arrivando alla conclusione che il clima cambierà nell'arco di pochi mesi. Ancora una volta però non viene ascoltato. Los Angeles viene colpita e devastata da una serie di tornado di manepotenza. E la realtà è sempre più chiara. Lo scioglimento dei ghiacciai ha alterato la salinità della corrente nordatlantica. Ciò sta innescando il fenomeno glaciale previsto da Jack. Il tutto però sarà ancora più veloce. Non si parla più di mesi, ma di settimane. Tre immense tempeste simili a uragani si formano sopra Asia, Europa e Nord America. Prima portano piogge torrenziali e ondate di marea. E poi un freddo così intenso, fino a meno 100 gradi, da uccidere all'istante chi si troverà esposto. Cosa che succede ad alcuni piloti dell'aviazione inglese. Sam e i suoi amici sperimentano questi fenomeni a New York. La città viene infatti travolta da un'onda di marea immensa che allaga strade ed edifici. Poi arriva la neve e il freddo. Sam e gli altri ragazzi si rifugiano nella biblioteca pubblica di New York. E qui riescono a contattare Jack, che gli consiglia di non uscire per nessuna ragione. Il freddo infatti sarà mortale. Sam e altri ascoltano il consiglio di Jack. Altre persone invece escono all'aperto, trovando effettivamente la morte. Jack decide di partire da Washington in direzione New York per salvare Sam. Prima però suggerisce al presidente degli Stati Uniti di evacuare in massa tutti coloro che vivono negli stati centrali e di portarli in Texas, Arizona o ancora meglio in Messico. Per chi vive negli stati del nord invece non resta che barricarsi in casa e tentare di resistere al gelo. Migliaia di americani decidono di attraversare la frontiera del Messico in un'emigrazione di massa alla rovescia. Il freddo non risparmia nemmeno l'osservatorio di Terry Rapson, causando la morte del professore e dei suoi colleghi, rimasti isolati e bloccati dalla neve. Jack, insieme ai suoi amici, Frank e Jason, comincia la traversata, ma sorgono varie difficoltà. Anche Sam se la vede brutta in quanto Laura, la ragazza di cui è innamorato, ha una ferita infetta alla gamba. Sam e altri due amici si avventurano su una nave incagliata vicino alla biblioteca per recuperare medicine e provviste. Ma proprio in quel momento arriva il culmine del gelo, il freddo killer, diciamo così. Dopo giorni di marcia sulla neve, Jack e Jason, Frank non ce l'ha fatta, arrivano alla biblioteca, che è ormai coperta di neve fino al tetto. Vicino a un grande camino, Jack ritrova suo figlio e gli altri superstiti ancora in vita. Le tempeste hanno ormai perso forza e il sole torna a splendere sulla terra, ormai avvolta dai ghiacci quasi per metà. A New York arrivano degli elicotteri militari per evacuare coloro che ce l'hanno fatta. Il mondo, ormai sovvertito nei suoi equilibri geopolitici, si appresta ad affrontare il futuro. The Day After Tomorrow è sicuramente un disaster movie con i fiocchi. Diverse scene sono diventate iconiche per gli appassionati del genere, dall'onda che travolge New York ai Tornado di Los Angeles, senza dimenticare la Statua della Libertà avvolta nel gelo. Quando lo vidi da ragazzino mi piacque subito molto, ancora oggi è uno dei miei film preferiti, e mi mise anche una certa preoccupazione. Ma quanto c'è di scientifico nel film di Emmerich? Qualcosa c'è, ma ovviamente c'è anche tanta esagerazione. Partiamo da ciò che scatena il tutto. Lo scioglimento dei ghiacciai è la conseguente alterazione della corrente nordatlantica. La corrente nordatlantica è una corrente oceanica che nasce nell'area dell'isola di Terranova, dove le acque calde della corrente del golfo incontrano quelle più fredde mitigandole. Ciò consente di avere un clima più mite in Europa settentrionale e non solo. Lo scioglimento dei ghiacciai, che sta realmente avvenendo anche nel nostro mondo, può avere un impatto sulla corrente nordatlantica e anche su altre correnti, a causa della liberazione di grandi quantità di acqua dolce in mare. Ciò potrà portare nel tempo all'alterazione della corrente nordatlantica, e forse persino alla sua interruzione. Quindi lo scenario che sta alla base di The Day After Tomorrow è realistico, ma nel film accade tutto in tempi troppo veloci. Va però detto che se non contrastiamo il surriscaldamento globale, la fusione degli acciai artici e antartici andrà avanti, e l'equilibrio degli oceani cambierà sempre più, con esiti ancora imprevedibili, ma di sicuro non positivi. Se la premessa del film è tutto sommato sensata, lo svolgimento è molto fantasioso. Non sono mai esistiti e mai esisteranno giganteschi simili uragani che congelano tutto al loro passaggio. Le ere glaciali non iniziano in pochi giorni e soprattutto hanno cause differenti. Anche i super picchi di Freddo Killer, i famosi in meno 100 gradi, sono un'invenzione cinematografica, scenica sì, ma decisamente esagerata. Per quanto riguarda invece i fenomeni meteo violentissimi e insoliti, vedersi la grandinata a Tokyo, i tornado e le alluvioni, l'alterazione del clima può portare anche nella realtà a fenomeni mai visti prima. Magari Los Angeles non verrà mai spazzata via da tornado colossali, ma il surriscaldamento globale sta dando origine a eventi violenti sempre più frequenti, anche in zone dove negli ultimi secoli sono stati rari o assenti. Un aspetto invece molto realistico di The Day After Tomorrow è la dinamica che lega il cambiamento climatico all'alterazione dei rapporti geopolitici. Nel film è tutto più veloce, questo lo abbiamo capito, ma i cambiamenti climatici stanno già innescando fenomeni migratori o l'abbandono di determinate zone. Se un'area prima coltivabile diviene improvvisamente arida a causa di meno piogge e di temperature più elevate, allora vivere lì diventa di conseguenza sempre più difficile. Emmerich ha voluto anche sferzare tutti i politici e i leader che, in nome dell'economia e del profitto, ignorano gli avvertimenti della scienza, salvo poi trovarsi di fronte a una situazione pericolosa e disastrosa. Gli scontri tra Jack e il vicepresidente sono emblematici in tal senso. Insomma, The Day After Tomorrow non va di certo considerato come un documentario sul cambiamento climatico, non era questo lo scopo. Ci sono molte cose esagerate e rese più spettacolari, è pur sempre un disaster movie, ma ci sono anche diverse verità di fondo. Quando uscì il film, il dibattito sul surriscaldamento globale stava cominciando ad essere un tema caldo, battutaccia lo so. Sono passati quasi vent'anni e ne stiamo ancora parlando, e stiamo anche cercando di agire concretamente. Forse non abbastanza, ma ci stiamo provando. L'uomo spesso tende a pensare di essere sopra alla natura, di non essere più influenzato da essa, ma quando la furia degli elementi si scatena, la verità arriva impietosa, e quasi ce ne stupiamo. Se non avete mai visto The Day After Tomorrow, o se vi ho messo addosso la voglia di rivederlo, segnalo che è disponibile su Disney+. Che dire signori, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, se è così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché non attivate la campanella, se volete supportare le mie creazioni potete farlo tra solo funzioni abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa a Paypal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!